Per cuore giallo-blu, Davide Bruttini, gara 1 di play-off, Torino fa una partita eccezionale, vince 88-72 contro la Forte Ferentino che arrivava da esperienze fresche. Noi siamo stati un po' fermi ma non si è visto questo, siamo partiti a mille, è un grandissimo Davide, soprattutto nel secondo quarto, dove possiamo dire è stato veramente il migliore e ha dominato la partita. Sì, al di là della mia prestazione, di cui certamente sono contento, era importante partire con il piede giusto, c'era un po' di tensione perché comunque stare due settimane fermi solo ad allenarsi non è facile e quindi bene, siamo contenti, abbiamo iniziato alla grande ma ora dobbiamo già resettare perché martedì si riparte e si riparte da 0 a 0. Sarà una serie lunga, noi siamo contenti perché oggi tutti e dieci giocatori convocati da Becchi hanno toccato il campo, è un buon segno, tutti sono veramente sembrati in forma, abbiamo visto un grande Lewis in partita difensiva buona su Thomas che forse era la chiave della partita, arginato anche in parte Stark sono i due, è questa la chiave della partita? Sì, sicuramente la difesa, perché se abbiamo un attacco abbiamo talento, ci sono meno problemi, in difesa a volte abbiamo delle amnesie e dobbiamo cercare di essere più soli di lì, anche oggi se noi potevamo chiuderla un po' prima però come ho già detto questo magari è un aspetto che dobbiamo migliorare in vista di martedì ma dobbiamo essere ottimisti, positivi perché abbiamo imbeccato la strada giusta. In attesa di martedì facciamo i complimenti veramente sinceri e sentiti a Davide Bruttini e invitiamo i torinesi a venire a questa gara 2 che è importantissima e decisiva. Sì, è molto importante, non decisiva però c'è tra di andare sul 2 a 0, indirizza le cose nel modo giusto, indirizzerebbe bene. Grandissimo Davide, complimenti.